La Giordania ha una nuova coppia di futuri reali. Al termine della cerimonia i neo sposi hanno viaggiato a bordo di una Land Rover scoperta che come da tradizione li ha condotti a palazzo dove gli aspettava un suntuoso banchetto per loro ebbe 1700 ospiti, tra cui molte teste coronate d'Europa. La sposa ha accolto i suoi ospiti con un nuovo look, capelli raccolti e un secondo abito nuziale firmato dolce e gabbana, questa volta ampio e con spesse decorazioni avvolute che ricordano degli arabesque. Voi quali dei tre look sfoggiati in occasione delle nozze avete preferito?